Lo spirito critico è un'attitudine nata o teorizzata specialmente dalla modernità secondo cui ogni cosa è meritevole di un lavoro, uno sguardo che è quello della distinzione prima ancora che la valutazione ma più generalmente in una società complessa come era ormai la società occidentale o cosiddetta postmoderna, lo spirito critico sarebbe bene divenisse un'attitudine più generale cioè leggere le cose del mondo, i segni che stanno vicino a noi e intorno a noi mai come qualcosa di naturale ma sempre come qualcosa di culturale cioè sottoposto a storia e non determinato semplicemente dalla natura questo penso possa essere, sì, il compito di qualunque persona eserciti una professione intellettuale ma anche di qualunque persona tu curi come tale